Oggi andremo a fare in ogni draft la carriera di Sadio Mane Partiremo da FIFA 18, l'unico FIFA disponibile da next gen 6 anni di foot draft, 6 anni di carriera Dove vedremo partire Sadio Mane alle prime armi Fino a diventare la star che conosciamo oggi Se volete comprare crediti più a bassissimo costo Per spacchettare, creare squadra dei vostri sogni O fare trading Trovate il miglior sito per velocità e grandissimi sconti Con il mio coupon risparmierete ancora di più Se siete degli esperti del settore, passate in tanti Eccoci nel primo capitolo, FIFA 18 Conosciamo bene le regole di questa serie che portiamo da tantissimo tempo Noi abbiamo un solo draft per provare a trovare Sadio Come sempre ragazzi, sbizzarritevi nei commenti Perché siete voi a consigliare il calciatore per il prossimo video Il più consigliato sarà il prossimo protagonista Chi volete vedere, un bel mi piace Condividete il video ovunque Gustatevi ogni draft perché ci sarà da divertirsi Lanciamoci nel primo Ecco tutte le carte di Sadio Mane Andiamo a trovarle Modulo perfetto AS Come Mane Ti prego, partiamo bene Guarda, se era un draft normale di quei tempi Eravamo partiti da Dio perché Porco 2, Messi Totti Che bella carta, che bella carta ATT Facci vedere Anche se poteva andare Maury Cardi dell'Inter Quanti interisti in lacrime Oppure che stanno godendo, che non c'è più Secondo me FIFA 18 non lo troviamo Però da quello in poi svoltiamo Perché qua ancora non era un giocatore molto forte E soprattutto guardate un po' chi c'è sulla fascia sinistra Eden Hazard Diciamo che ce ne sono molte carte migliori di lui Zieliski Facciamo il Cio Cisco Mamma ragazzi vi ricordate Isco Prime Che giocatore C'è Paul Pogba David Silva If93 What the fuck Quanto cavolo era forte? Dai ti prego Lo so che è difficile Però proviamoci Ma sono il numero 1 Hero Versione eroe ragazzi La sua versione eroe Oh my god Wow Compleanno di foot Cristiano Molto molto carino Ribéry Quello mi ricordo Versione tipo estiva Potrebbe essere Bello 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 Pure Rickane Che versione è? Non mi viene in mente Forse tipo Festival of football Potrebbe essere Però contentissimo signori Sono troppo contento Dai ultimo giocatore Però regà Bellissimo Vai con Spitz in grillo Però c'è Sadio Mané C'è FIFA 18 Già trovato Non so nemmeno io come ho fatto a trovarlo Perché Oh era difficilissimo Porca troia trovarlo Però ci siamo riusciti Let's go FIFA 19 Queste sono tutte le carte Che Sadio Mané È riuscito a prendere Su FIFA 19 Andiamo nel draft Felipe Anderson e Pedro Sul serio Cioè sul serio Dai partiamo dall'ATS Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané Ma che è sto schifo Però esce Riad Marez Cioè esce Marez Ma non il nostro Mané Ma che sbatti E lui o non è lui E lui o non è lui E lui o non è lui Eh lui o non è lui Totti della Juventus 97 velocità 99 tiro 95 passaggio 98 tripling 95 fisico Dai vediamo un po' Facci vedere qualche... Bello, The League The Future Stars Mi piace, mi piace 92, bello forte Altro difensore? Madonna Van Dyke Tots Mamma mia Chiellini, oro 90 Che giocatore, Giorgione Dai, dai, ti prego Sadio, manè Sadio, manè Sadio, manè Basta Basta, Sanè Basta Vabbè, dai, prendiamo Sanè Lo mettiamo Non lì Manè, 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 manè Manè Nono, Rigi Ma non sto coglione di Sanchez Eh, amico, i campioni sono così Vabbè, ma li sto trovando Tutti Starridge Tu madre, Starridge Tu madre Dai Che sbatti C'è pure Starridge C'ho C'ho tutto il Liverpool Ti prego, manè Ribery Cancelo Lazzari Tiettelo Tiettelo, Cancelo Io mi prendo Lazzari Purtroppo draft Senza Sadio, manè Dobbiamo rifarci, signori Dobbiamo rifarci Quindi FIFA 20 Queste sono tutte le carte di Sadio Manè Su FIFA 20 Andiamo con i moduli Poi abbiamo prendere un bel 4-3-3 Ed eccolo lì Un bel 4-3-3 Con la S La S E subito un capitano Così ce lo leviamo Guarda, Cristiano è meraviglioso Marzial dell'Europa League Manco mi ricordavo della sua esistenza 92 Perché forse è arrivato in finale quell'anno Che carta Madonna Che ricordo Marzial Ma porco 2 Che carta Subito nella panchina Non ne voglio sapere nulla Subito panchina Madonna Lupo Alberto 97 Dai, dai, dai Il prossimo, il prossimo, il prossimo Paolo Di Bala 93 Madonna Tantissima Tutti i fenomeni sta a droppa Che spiritoso Yey Tutti i fenomeni sta a droppa Ti prego Ti prego Facciamo le persone per bene Hey That's pretty good Grazie Grazie Sadio Manè Versione ATT IF89 E ci leviamo di mezzo Almeno Un FIFA Preso Alla Perfezione Ecco di che team Che link verde Benfica Porto Pepe Toz Ruben Diaz Toz Guarda quello è molto bello Ochoa Che adesso c'è proprio il mondiale Ochoa ha già parato un rigore Hai capito Ochoa Allison Così possiamo chiudere Jimmy Vardy Ultima carta per chiudere questo FIFA Ed è Meso Mount Giovanissimo E chiudiamo qui questo FIFA FIFA 20 Lo chiudiamo in positivo Sadio Manè C'è Bomba Adesso dobbiamo caricarci E lanciarci Sul FIFA 21 Ecco tutte le versioni Di Sadio Manè Di FIFA 21 Anche qui non sono molte Anche se parte Benissimo Perché ha un 90 Bello il 3-4-3 Meraviglioso Abbiamo sia S Che S Una chicca Purtroppo non esce Però non buttiamoci giù Perché adesso c'è l'AS Subito E' lui E' lui E' proprio lui Sadio Manè Versione Champions League Oro Base Noi Noi Non ci sputiamo E andiamo Stiamo buoni Perché qui potremmo fare anche il record Signori La partita adesso va in discesa Oliviero Uomo vero E andiamo subito con Manè Quindi noi possiamo rimanere calmi Rilassati E prendere chi vogliamo Bello Prendiamo pure Momo Salah Così abbiamo fatto tutto il Liverpool Andiamo sul centro campo Sisso con Europa League Quanto mi manchi Sisso Vediamo un po' Facci vedere qualche carta Andiamo avanti Facciamo finta di non aver visto nulla Oh Atal Vedi Raga vi ricordate quando Su questo FIFA Esplosa la moda del 5-5 Le carte o erano 5-5 Non si dovevano utilizzare Mi ricordo Sto Atal Che era in ogni team Di quelli che avevano un po' Più di soldi Cioè perché tutti i regali Lo prendevano Anche questo FIFA è andato Tocca il 22 Stiamo andando forte Continuiamo Queste le carte di Sadio Manè FIFA 22 Come vedete Il predominio È davvero Clamoroso Ha un sacco di versioni speciali Andiamo a trovarle Andiamo a prendere i moduli C'è qualche modulo 4-3 4-3 È perfetto Subito Leviamo il giro di mezzo Non si leviamo la paura Non vogliamo levarcelo A S Sadio Ma Ne A posto Tutti che fanno schifo Let's go Subito panchina Subito Manè Subito Eccolo qui Lo chiamavamo Lo cercavamo Bello anche In golocante 98 Ma noi volevamo Sadio Manè E ci prendiamo Sadio Manè Con la sua carta Road to the final 96 Bellissima 91 velocità 96 dribbling 92 tiro 91 passaggio 88 Fisico Un cartone Vediamo un po' Se ci sblocca qualche ricordo Non so se tipo ci droppa qualche baggatone Bonucci Ma non penso se sblocchi qualche ricordo KK del Napoli L'ultimo Tots di Coulibaly Del Napoli Per Che non gioca più nel Napoli Inizia era l'ultimo E Zenonero l'ha preso quasi sempre A BD Molto forte Mamma mia Queste carte mutaforma Erano assurde le hero Kalulu Questo qua è fine FIFA Mamma mia Che overall che avevano Cioè degli overall Senza senso Giorginio Todi Mi ricordo quando è uscito Regà Vi ricordate a gennaio Quando hanno mostrato Questa carta di Giorginio Nessuno ci credeva Perché ha delle stats Senza senso Davvero una roba Fuori di testa Vai con Zaccanni Ma non fa niente Fa niente di questo FIFA Noi volevamo solo una cosa Volevamo Sadio Mané Ed ecco Sadio Mané Let's go Let's go Ecco tutte le versioni Di Sadio Mané Di FIFA 23 L'ultimo FIFA di oggi Abbiamo la sua versione Oro del Bayern Monaco La sua versione If È il One to watch Quindi signori Andiamo a trovarlo Lo chiedevo Lo sognavo Due esterni sinistri AS e S Andiamo con i capitani Che non vogliono proprio darcelo Quindi facciamo finta di nulla AS Subito Ti prego Leviamolo di mezzo Ok Male 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 Non è una buona partenza Non è un buon inizio S Oh Gesù che schifo Vai con Vargas Perché dobbiamo stare attenti Perché Mané adesso È Bundesliga Vedi Stavo dicendo Premier League Invece lui ora è Bundes Kamada che richiama la Bundesliga Dai ma non messi Ti prego Niente Hazard però vedi Hazard Hazard Lo mettiamo qui Richiamiamo la Bundes Un po' di Aria di Bundes Eccolo Eccolo Sadio Mané 90 Del Bayern Monaco Let's go Comunque guardate qua Che draft penoso Ma non ha droppato delle carte A parte qualcuno Guardate qua Che robaccia Mamma mia Che brutto draft Ma fa niente L'importante è che c'è un Mané Sono felicissimo Però mamma mia Raga proprio brutto e brutto Comunque mo Sono proprio col cuore Veramente raga fanno cagare Guarda qua Come fanno schifo Però fa niente Il draft fa schifo Ma c'è Sadio Mané Grazie Deus Mané ha preso Un bel posizionamento Chi sarà Il prossimo protagonista Del prossimo episodio Signori Sono giù Al termine Anche di questo video Tra mille problemi E altro Dopo quasi Due ore E più Di registrazione Sono uscito A concludere Questo incredibile Draft Su ogni FIFA Con Sadio Mané Che ha fatto Uno dei migliori Draft Su tutti i FIFA Chi deve esserci Nel prossimo episodio E lo volete Un bel mi piace Per sostenerlo al massimo Iscrivete al canale Condividete il video Comunque E doverto questo Vi ringrazio di vista il video Vi ringrazio di sostegno Dex è tutto Haters make me famous Che Grazie a tutti.